molto penso si isoli anche questa persona. Ora stiamo parlando del quadro quando va incontro a una cronicizzazione, quando gli attacchi si susseguono, per cui allora la persona ha proprio una difficoltà a affrontare delle situazioni. Molte volte, perché poi in genere si riesce evidentemente a dire alla persona qual è il nome del disturbo, come dicevamo all'inizio, uno ha la preoccupazione di avere magari un disturbo cardiaco, un disturbo del respiro, però dopo aver fatto degli accertamenti si riesce a individuare. A questo punto dipende molto da come viene affrontato. Certo, il rischio è quello di arrivare sempre a circoscrivere le esperienze, quindi a rimanere un pochino in un ambiente. Quindi anche certo ci possono essere anche dei problemi per la vita relazionale. E ora questo è soprattutto nei quadri che vanno incontro alla cronicizzazione più complicati, perché in realtà il disturbo soprattutto è inabilitante per queste complicazioni, perché in fondo di per sé l'attacco di panico è un aspetto come dire parafisiologico. Cioè molte persone, la maggioranza di noi probabilmente ha sperimentato una volta un'ansia così panica, un'ansia intensa. Solo però persone che poi hanno un particolare filtro nella valutazione delle esperienze, quindi sono aspetti più che hanno a che vedere con la personalità, poi finisce per sviluppare il disturbo. Perché altrimenti è come un allarme che suona di colpo in una villa, no? Molte volte ormai non arrivano più nemmeno i carabinieri o la sicurezza. Solo se la cosa si ripete diventa un problema. Quindi ecco, diciamo, è come un'attivazione dei sistemi che fisiologicamente noi abbiamo, noi come tutti gli animali, sarà capitato appunto a lei, agli ascoltatori, di vedere per esempio un gatto che si trova in una situazione in cui di colpo è chiuso in un angolo, no? Allora il gatto inarca la schiena, ha le zampe che sono pronte a fuggire o a lottare, no? Perché fisiologicamente il sangue viene richiamato nei distretti appunto che servono alla lotta, alla fuga. È uno stato di tensione che è proprio la reazione di allarme che poi deve subito andare appunto nella direzione, no? Il gatto o trova una via d'uscita oppure aggredisce la persona che gli impedisce di fuggire. Ecco, questa è una situazione proprio di attivazione di questi sistemi che poi dal punto di vista biologico sono dei sistemi noradrenergici che appunto poi determinano chiaramente una condizione di estrema tensione, di estrema ansia. Quindi chi ha avuto l'attacco di panico, se rimane in una situazione di tensione prolungata, poi tende anche ad avere un'alterazione della percezione delle situazioni che vive. Quindi ecco, è importante intervenire diciamo correttamente all'inizio. Ecco, questa è, per quello credo anche che trasmissioni come questa siano molto utili perché dobbiamo dare un'informazione, anche perché si diceva prima, è un disturbo che riguarda la popolazione giovanile e adulta che poi a volte ecco tende, diciamo, non è certo la popolazione che di solito affolla gli studi dei medici di famiglia, quindi sono persone che magari tendono anche da questo punto di vista, se non c'è un'informazione corretta, a non entrare diciamo nei percorsi di cura. Ho capito. Dottor, un'ultima cosa brevissima perché abbiamo pochissimo tempo. È più diffusa nell'uomino o nelle donne? È più diffusa nelle donne, circa il doppio nelle donne. E anche quella condizione che dicevamo prima di agorafobia è più comune nelle donne. Da questo punto di vista, ecco, l'uomo anche quando ha una situazione, perché l'uomo magari si vergogna di più a presentarsi come malato, o no, un uomo ancora giovane, però ecco poi dopo tende ad avere una possibilità, diciamo, di riesporse alla situazione, mentre invece la donna di fatto tende di più a questa complicazione dell'agorafobia. Quindi è chiaro che, come dire, in definitiva anche da un punto di vista culturale la donna è rimasta di più in casa, quindi tende a, dal punto di vista sociale, è più accettato che una donna viva un'esistenza, diciamo in fondo, dove è rassicurata dal suo ambiente, mentre invece l'uomo in qualche modo deve uscire, deve fare, quindi è più anche a livello culturale, chiaramente sappiamo come poi la cultura è molto importante anche per affinare, diciamo, delle caratteristiche di personalità e quindi ecco che di fatto nel maschio noi vediamo non solo, quindi questo aspetto più biologico dell'attacco, ma anche l'aspetto della personalità, ecco, finisce per determinare una riduzione dell'agorafobia. Professore, io vorrei invitarla...